Ora Laura Canzonetta e Laura Pep Marco in duo suoneranno di rondina in prima audizione tema con variazioni sul tema di Sur le Point d'Avignon, filastrocca francese del XV secolo. L'ho detto prima audizione perché il compositore nonché amico della signora Nelly ha voluto dedicare proprio questo brano a due sue allieve. Prego. Grazie. 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 Grazie.